Diffondere tra gli studenti e le famiglie la cultura della salute e del benessere attraverso corretti stili di vita e informare sulle nuove scoperte terapeutiche. Questi gli obiettivi dei giorni della ricerca progetto AIRC che ha visto questa mattina un importante incontro tra gli alunni delle classi terze di scuola secondaria di primo grado e la ricercatrice AIRC dottoressa Rosanna Piccirillo all'istituto Poi Domani di Modica. Dal 1995 con i giorni della ricerca Fondazione AIRC accende i riflettori sui più recenti progressi della ricerca oncologica sensibilizzando all'incremento delle risorse da destinare al lavoro prezioso e fondamentale dei ricercatori. Si tratta di un'iniziativa legata alla campagna scuola dell'associazione italiana ricerca sul cancro e diciamo io un po' sono in doppia veste perché oltre ad essere docente dell'istituto comprensivo Raffaele Poi Domani sono anche delegata locale dell'AIRC e la campagna scuola ha l'obiettivo di raggiungere le giovani generazioni e i ragazzi che sono molto attenti devo dire alla salute e l'AIRC intende proprio da una parte approfondire il tema del corretto stile di vita quindi per evitare l'insorgenza dei tumori ma anche far conoscere ai ragazzi l'esperienza del ricercatore di laboratorio che poi sono quelli finanziati proprio con i progetti di sovvenzione AIRC. Le nuove generazioni saranno i ricercatori e gli adulti di domani quindi loro è molto importante che conoscano i vari tipi di lavoro che ci sono per poter scegliere meglio e poi questo lavoro essendo molto dietro le quinte è un lavoro nascosto però noi ricercatori da diversi anni a questa parte stiamo uscendo dai laboratori incontriamo sia il pubblico adulto che il pubblico meno adulto e io dal Milano sono venuta qua in Sicilia anche per incontrare i ragazzini di questa isola perché anche loro comunque hanno diritto a conoscere il nostro lavoro e ho cercato di tradurre in linguaggio semplice un lavoro molto complesso spero di esserci riuscita. Mi hanno chiesto in quale fase è composta l'attività di ricerca e io ho portato anche un esperimento ad esempio perché mi rendo conto che il nostro lavoro dietro le quinte è un lavoro per specialisti per addetti al lavoro quindi esperti nel settore per me è stata una sfida cercare di tradurre a livello pratico quello che facciamo in laboratorio e la ragazzina era molto interessata e ha cercato di sperare con un esperimento concreto sul lavaggio delle mani cosa c'è sulle nostre mani quando non le laviamo tutti i batteri che ingurgitiamo se ci mangiamo le unghie di mani non lavate o mangiamo con mani non lavate. Siamo a novembre come ogni anno AIRC si impegna a portare dei ricercatori nelle scuole perché così diamo la possibilità a tutti di capire realmente dove vanno a finire i soldi. Quindi l'impegno di ciascuno di noi quanto è importante per la ricerca. I ricercatori sono persone che non vediamo, con cui non abbiamo contatto ed è importante far capire sin dai ragazzi più piccoli sia stimolarli al lavoro di ricercatore ma anche far capire che è il piccolo sforzo che si può fare donando i due euro, acquistando i cioccolatini, la zalea eccetera quanto è importante e che ricaduta ha nella vita di tutti i giorni e nella cura di queste malattie.